Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa strepitosa BMW 330 XD Sportline Station Wagon del giugno 2016. Vettura ufficiale italiana, comprata nuova alla BMW di Brescia, con soli 59.000 km percorsi. È una versione veramente rara perché i 6 cilindri turbodiesel con la trazione integrale ormai sono veramente poco diffusi. Quindi non è semplice trovarla sul mercato dell'usato. È una vettura veramente molto accessoriata, abbiamo ruote in lega da 18 pollici, paulo elettrico, luci di urne LED, fari xeno, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Uno splendido blu metallizzato con interni sportivi in pelle parziale color beige. Vi faccio vedere. È una macchina veramente in tonsa, condizioni realmente pari al nuovo. Quattro sacchistelli elettrici con specchi ripiegabili, inserti in alluminio spazzolato. Volante sportivo tre razze multifunzione con cruise control e pedal per il cambio. Board computer. Vado a mostrarvi il chilometraggio. Eccolo lì, 59200. Abbiamo naturalmente sistema di navigazione satellitare, radio CDMP3. Clima automatico bizona, cambio automatico sequenziale. Sistema Sport & Deco Pro per la regolazione della nostra vettura. E tutti i comandi necessari. Vado a mostrarvi lo storico manutenzioni. Infatti quest'auto ha già fatto due tagliandi in BMW. Molto semplice. Eccolo qua, interventi manutenzione. A parte che vi segna che è tutto ok. E lo storico interventi va a mostrarmi le due manutenzioni eseguite. Quindi con regolarità. Naturalmente abbiamo anche specchio auto in abbagliante. Vi mostro il divano posteriore. Questa è un'auto che ha ancora la garanzia ufficiale. Infatti gode della Best Ford. È disponibile in pronta consegna. Vi aspetto a Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto. Per vedere, provare ed acquistare questa splendida BMW XD. Grazie.